Loro sono gli uomini dell'indotto dell'auto, 200.000 lavoratori sull'urlo del baratro. Con l'addio al motore termico, addio anche a chi produce componenti. Solo in questa azienda di 700 persone a rischio, il 70% della forza lavoro. Quasi tutti i bravi ragazzi hanno le famiglie. Ho la notte a Natale e a Pasqua, passo di qua a fargine salutati perché tanti le fanno notte e non li vedo. Vengo a fare gli auguri. Questa bomba muove le due frizioni di un cambio automatico in una casa tedesca, in una casa domestica tedesca. Ovviamente nell'auto elettrica non ci sarà più bisogno di quanto ci sia in tecnologia. Quante ne fate ogni giorno? Di queste ne realizziamo 3.000 al giorno. Trovate il resto del video su questo canale. Barone Vassallo, 22 febbraio 2023. Buonasera a tutti. Allora, partiamo da un principio fondamentale. L'altra sera stavo seguendo un documentario datato, 1980, in cui si parlava di un noto boss siciliano. Il noto boss siciliano ha praticamente, sulla finire degli anni 50, la metà degli anni 50, ha praticamente sgomberato tutti i boss che c'erano nella sua Corleone. Non sto parlando di Messina Denaro, ve lo dico subito. È un altro importante personaggio della malavita siciliana. Allora, si parlava dei personaggi che c'erano in quel periodo, di una famiglia di farmacisti che dominava il paese, di un ragazzone, il bandito Giuliano, che era un ragazzone enorme, come andava a cavallo, aveva sempre lo schioppo in mano. E invece il giornalista diceva che questo boss, che poi aveva preso in mano tutto, era gracilino, basso, storpio e grassottello, a differenza, ad esempio, del bandito Giuliano. Però aveva fame, aveva la forza di chi deve sopravvivere e per questa ragione non permette agli altri di sopraffarlo e anzi diventa lui il sopraffassore. Perché questo aneddoto? Perché io mi chiedo, mi domando. Non è assolutamente una proposta o un'intenzione o un proposito da dare alle persone. Ma io mi chiedo, sappiamo tutti, a parte quei cretini che non capiscono niente, quei nerd, quei soggetti senza storia, senza passato, senza radici, senza nulla, quei nerd inutili, quelle persone stupide, che l'auto elettrica è un grandissimo errore. È un grandissimo errore perché sarà impossibile produrre tutte le batterie, è un grandissimo errore perché sarà impossibile alimentarle, è un grandissimo errore perché sarà difficile poter fare dei viaggi, poter utilizzarli per gli aerei, per le navi, per le navi da crociera, per i carri armati, per i trattori in campagna, per le auto da viaggio, per i rappresentanti di commercio, per tutti. E ci troviamo sull'orlo di un baratro nel quale, oltre a cadere il consumatore, ma anche se la maggior parte dei consumatori già stanno auspicando un futuro come quello di Cuba, chi ha le proprie macchine a motore endotermico le rimetterà a posto ciclicamente, facendole durare praticamente per sempre come a Cuba. Però dobbiamo ammettere che ci sarà, come vi ho fatto vedere in questo video, e vi consiglio di andarlo a vedere su questo canale, ci sarà un espload di disoccupazione perché fabbriche come la Jets che fa le fasce, fabbriche di rettifica, cioè industrie di rettifica, macchinari ad alta precisione che producono masamenti, canne cilindro, pistoni, bronzine, alberi a cam e via discorrendo, andranno tutti fuori. Allora io mi chiedo, quel piccolo storpio bandito siciliano, come lo ha definito quel video che io vedevo del 1980, è riuscito a scalzare i prepotenti che volevano levargli la pagnotta dalla bocca. Io mi chiedo, ma è possibile che migliaia e migliaia di dipendenti, capi d'azienda, famiglie, e chi più ne ha più ne metta, autoriparatori? Possibile che non alzino un dito per far valere la loro vita, il loro lavoro? Io pensate, qualche settimana fa parlavo con un meccanico e gli dicevo, dico, ma a me mi sembra veramente allucinante questa cosa qui. Sapete cosa mi ha risposto? Questo meccanico mi ha risposto, e a me? Che cazzo me ne frega? Io tra qualche anno me ne vado in pensione, saranno cazzi degli altri. Torniamo sempre al discorso che l'italiano non farà mai le cose come dicono questi, buffoni, quando si parlava di sacro rimedio, quando si parlava di alimentazione a insetti, quando si parlava dell'auto elettrica. Non farà mai un qualcosa per il prossimo. L'italiano è fondamentalmente una persona egoista. Ma l'egoismo, molte volte, va messo da parte per una lotta comune. In questo caso la lotta comune dovrebbe riguardare per filo e per segno la propria sopravvivenza, o comunque la sopravvivenza di un settore che porta avanti, oltre posti di lavoro, anche moltissimi appassionati. E' inutile che ci giriamo attorno. Le passioni migliorano la vita. Le passioni sono il sale della vita. Con le passioni si vive meglio e si vive più a lungo. Ecco, loro stanno spengendo tutte le passioni. Lo stanno facendo apposta. Una vita che non vale più la pena vivere, perché non c'è più gusto. Allora, ritornando a bomba. Secondo voi, vi pongo questa domanda. Il bandito siciliano, piccolo, storpio, povero, malaticcio, riuscì a far valere le sue prerogative di vita. A parte il fatto che è sbagliato e qui non ci piove. Scusate se non l'ho detto prima. Ma è possibile che migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori del campo dell'automotive non riescano a sbarrare questa idea folle, questa eurofollia che li porterà loro, i loro figli e chi per loro al fallimento. Ma io veramente a questo punto non capisco più che cazzo di gente sono gli italiani. Gli italiani e questa volta aggiungo gli europei. Ditemi voi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.